Benvenuti in questo tutorial dell'esercizio CARL con bilanciere. Esercizio fondamentale, multiarticolare, mirato ai bicipiti. In questo esercizio potrai effettuare il gesto con il bilanciere EZ, quindi quello sagomato, o con il bilanciere dritto, che è leggermente più scomodo per i polsi, per cui la maggior parte delle persone preferisce il bilanciere sagomato. In questo esercizio dovrai tenere l'avambraccio e il braccio in linea con il corpo, dopodiché con il braccio bloccato ai lati del corpo senza fare nessun movimento avanti o indietro, se non nella fase finale del gesto, cominci una spinta delle tue mani verso il bilanciere fino ad arrivare alla massima flessione dell'avambraccio sul braccio. Il gesto può essere svolto in maniera controllata o in maniera più esplosiva in salita e consigliamo sempre una discesa abbastanza controllata. Lo facciamo vedere anche in visione laterale. Come vedi in questo gesto il gomito si sposta in avanti solamente nella fase di chiusura finale del gesto per poter enfatizzare la contrazione muscolare della fase finale. Per il resto il movimento del braccio è minimo ed è l'avambraccio che si muove sul braccio fino ad arrivare appunto in flessione completa e poi in estensione completa. È un esercizio abbastanza semplice da eseguire ma l'errore comune è quello di caricare troppo come carico e dover pertanto eseguire dei movimenti bruschi con la schiena per portare su il bilanciere. Quindi questo errore comune è assolutamente sconsigliato, te lo facciamo vedere, quello che succede spesso quando il carico è eccessivo è la cosiddetta schienata per portare su il carico. In questo gesto c'è una minor diciamo sicurezza e un minor coinvolgimento del bicipite a discapito appunto del coinvolgimento della bassa schiena che sicuramente ne può risentire. Per ulteriori tutorial seguici sul canale YouTube Dieta Flessibile Italia e sui nostri canali social.